risultato raro nel calcio a 5 ma finisce proprio 0-0 gara 1 della semifinale scudetto tra il monte silvano unica sopravvissuta delle tante abruzzesi e kickoff nel ricordo di berardinucci storico tifoso si apre un match di grandi equilibri a tratti ma anche senza fortuna per le nostre se solo si considerano il legno clamoroso dell'amparo il blitz sulla linea della bertè dai trascorsi abruzzesi e più di un intervento miracoloso di rene franco tra i pali ospiti in più out la maniera il che non è poco in un contesto che tirate le somme non c'entra niente con il risultato in bianco meriti anche per le lombarde che hanno impegnato all'occorrenza la solita e bravissima Carolina Sestari e ora c'è gara 2 domani alle 20 in terra milanese chi vince va in finale ludendo la bella che ci sarebbe solo in caso di ulteriore pareggio non sarà facile per le gonzaliane ma nemmeno imprese impossibile per raggiungere un traguardo dove ha messo un piede il rullo falconara dopo il 6-1 sullo stat vedremo grazie ciao